Salve ragazzi, oggi per la serie unboxing dall'Oriente andiamo a vedere cosa è arrivato in questo pacco. In questo pacco è arrivato finalmente in case holder per costruire il pacco batterie per caricare i cellulari. Vediamo cosa c'è dentro, dice fino a 20.000A, uscita massima 5V e 2A, vediamoci tutta la circuiteria interna con il box per contenere le varie batterie litio da 3,7V che andranno a costituire il pacco batterie. Io ho già recuperato da vecchi portatili, quindi dalle batterie sauste dei portatili, in maniera tale da riciclare tutto e dare nuova vita alle batterie. Questo l'ho acquistato su un noto sito di Aste Online al prezzo di circa 4€. Spero che funzioni e che vada tutto per il meglio. A seguire poi sul canale sarà presente anche una prova del pacco batterie per vedere se funziona o se sia soltanto una fregatura. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!